ok siamo qui oggi per l'unboxing del dvd a pesca con pingu potete vedere questo dvd originale c'è il sigillo della siae non storcere il video perché sennò poi viene un macello pagato ben 2 euro e 99 abbiamo fatto una colletta perché costava troppo per le tasche adesso lo apriremo da me passare un po il martello senti le cartacce della notte facile l'apertura così è molto facile perché questo è un prodotto ovviamente non è adatto ai bambini quindi si riflette anche nella difficoltà nell'aprirlo possiamo ammirare qui questo pesce di peregevole fattura li pongo apriamo apriamo vediamo il libretto delle istruzioni poi ci stanno i punti dei punti stella della nintendo poi ci sta il libretto quello sulla sicurezza però di qua c'è il dvd ma per tre euro che vuoi allora da dall'angelo pictures dvd video vediamo condizioni molto buone se il prodotto è effettivamente nuovo non è uno di quelli del game stop che sono incartati leggiamo qua gli episodi 13 episodi durata di un'ora un buon acquisto perché storci la camera no lascialo in orizzontale tutto qua ok tutto qua no non è tutto qua perché tu dici tutto qua però questo è un concentrato di artisticità cioè vedi guarda qui sul logo vedi il becco questa è la tipica espressione del marchio di riconoscimento di pingu questo ti fa capire che è proprio un prodotto che poi comunque si giusto i bambini sterili perché poi comunque per far capire che pingu è un pinguino scritta è nera e bianca ovvio vedi è tutto curato nei minimi particolari rigo secondo questo ragionamento tu sei un pinguino certo anche se però comunque la e io il rivestimento del il dvd è verde quindi non c'entra un cazzo beh però è artistico il verde sta bene vedi perché c'è un particolare giallo arancione rosso no poi c'era il blu ci hanno messo pure il verde così abbiamo fatto tutti e quattro i giochi della prima genna capito giallo rosso blu e verde ok concludiamo con un frigo no gg merda gg merda